Cari amiche e cari amici di Barbasofia, il manuale prima filosofare che ho scritto con Gorgone, Moliterno e Tancredi per i licei, per le scuole superiori di secondo grado presenta un'interessante sezione dedicata alla filosofia romana e la filosofia romana è ancora debole sul canale YouTube Barbasofia, peraltro questa sera ho pensato di farvi una breve lezione dedicata ad un filosofo intellettuale importantissimo nella cultura romana, dunque importantissimo anche in quella che noi poi consideriamo cultura del nostro paese, traslando a volte in maniera un po' arbitraria Roma, l'antica Roma nella nostra moderna Italia, mi riferisco a Cicerone, è un esempio di eclettismo filosofico, è un esempio di sapiente a 360 gradi, è un esaltatore dell'arte oratoria e delle virtù politiche, delle virtù pubbliche. Marco Tullio Cicerone nasce nel 106 da una famiglia nobile, nasce ad Arpino nel Lazio, compie studi di giurisprudenza, dunque di diritto, ma studia retorica, studia l'oratoria, studia filosofia e nelle sue prime esperienze politiche appoggia anche quello che sa il futuro dittatore Silla, poi deluso, compie dei viaggi per ritornare a Roma nel 77 a.C. e si dedica assolutamente in modo convinto e forte alla politica e sono celebri poi le sue orazioni contro Catilina, le quattro orazioni per denunciare i tentativi di Catilina di compiere di fatto un colpo di stato, una congiura. Questo suo intervento, questi discorsi portano a Cicerone grande fama, è un uomo sicuramente di grande personalità, un uomo di scrittura, un uomo di parola. E a Roma e forse anche a conoscenza quando vi è l'uccisione di Cicerone e di Giulio Cesare e poi vi è l'appoggio dato nella guerra civile tra Ottaviano e Ad Antonio ad Ottaviano, si schiera con quello che poi sarà il futuro imperatore di Roma. Allora veniamo un po' alla sua filosofia, poi Cicerone muore a Formia nel 43 a.C., negli anni immediatamente successivi, la morte di Cesare. Vi dicevo, quali sono gli aspetti filosoficamente importanti, rilevanti di Cicerone? Cominciamo con il dire che si tratta di un eclettismo filosofico, ovvero ci sono più dottrine che provengono dal mondo greco innanzitutto, che confluiscono all'interno del pensiero di Cicerone, che dunque non è un sistema filosofico come quello di Platone o di Aristotele, ma non vi sono quasi nel mondo, sistemi filosofici come quelli di Aristotele e di Platone nella storia appunto del pensiero mondiale, occidentale, ma non solo dire anche mondiale. Però sappiamo anche che il mondo romano è un mondo di fatto filosoficamente dipendente da quello greco, cioè la filosofia romana non presenta grandi elementi di originalità. Lo stesso vocabolario romano, la sua terminologia romana, nei campi proprio filosofici, artistici, culturali, è nettamente più povera di quella greca. E dunque il numero di parole a disposizione dei romani per fare filosofia è inferiore al numero di parole che possedevano i greci. C'è dunque una filosofia in questo proprio senso minore rispetto a quella greca, ma ci sono alcuni punti interessanti. Innanzitutto, dicevo, un eclettismo filosofico, il suo pensiero, la sintesi anche di più filosofie e anche di fonti diverse. Di sicuro è un uomo di razionalità, è un critico della religiosità quando si fa superstizione, anzi invita con l'uso critico della ragione a non cedere alle superstizioni. Dunque la filosofia per Cicerone ha una missione civilizzatrice, deve liberare dall'ignoranza, dunque bisogna liberarsi dall'ignoranza, dalle superstizioni, dalle false credenze, ed è una filosofia che deve promuovere dei valori. I valori sono quelli della patria, sono i valori della famiglia, sono i valori dell'amicizia, sono i valori della fedeltà, sono i valori appunto delle virtù pubbliche, si è cittadini quando si possano delle virtù pubbliche, di coraggio, di rispetto, di magnanimità, di coerenza, di temperanza, le virtù del buon cittadino, di fedeltà alla patria, il politico è un servitore della patria, della comunità politica, non è un usurpatore, un approfittatore della comunità politica. Questo è un aspetto fondamentale nel Penso di Cicerone, la filosofia come civilizzatrice, ma anche la filosofia come momento alto di riflessione su quelle che devono essere le virtù pubbliche e collettive, perché senza virtù pubbliche e collettive la politica appunto degenera, degrade, diventa corruzione, diventa malaffare. E poi c'è ovviamente Cicerone la esaltazione dell'arte oratoria, l'arte oratoria è l'arte nobile, l'arte oratoria dei senatori stava declinando e la vuole recuperare invece Cicerone, vuole esaltare un'arte oratoria che però sia finalizzata ovviamente a far prevalere la virtù, l'onestà, la giustizia e dunque far prevalere un mondo dei valori, cioè non può l'oratoria essere al servizio dell'inganno. E qua muove una dura invece critica alla retorica, recuperando alcuni passaggi importanti presenti nei dialoghi appunto di Platone, ad esempio, come nel gorgia appunto di Platone. La retorica non può essere utilizzata per distogliere dalla verità e dalla giustizia e dunque la retorica, se appunto una retorica finalizzata, soltanto a far prevalere una tesi sull'altra, al di là poi di quello che è il contenuto, di quelli che sono i valori promossi e trasmessi, appunto è una pessima arte quella della retorica. E dunque la retorica non deve essere vuota e questo è effettivamente un rischio. Vi leggo un passaggio del manuale. Cicerone ricorda il legame tra l'arto oratorio e la filosofia e di conseguenza tra quest'ultimo e l'attività politica. La cultura viene intesa a Cicerone come una riflessione critica alla ricerca della verità, della virtù e la giustizia. Dunque l'arte oratoria deve essere un'arte finalizzata alla verità e alla giustizia, mentre la retorica è diventata una retorica ingannevole, è diventata una disciplina finalizzata solo alla persuasione, ma è una persuasione che non è più appunto portatrice di quella bellezza che sono la verità, la giustizia e la virtù. C'è anche un metodo di lavoro importante in Cicerone che bisogna appunto sempre ricordare. Il metodo è il metodo dello studio finalizzato alla conoscenza. Bisogna dedicare la vita alla conoscenza, lo studio, lo studio fortifica l'uomo. E oggi queste cose sembrano veramente molto lontane dalla nostra modalità di vita, studiare, cosa serve studiare, un mondo in cui anche se studio poco, se so fare qualcosa di pratico, anche senza grande studio alle spalle, mi premia, posso avere successo, quello è denaro. Invece la cultura del lavoro in Cicerone è soprattutto la cultura dello studio. Lo studio serve per liberarsi dai dogmatismi, dalle falsità, dalle false credenze, dalle superstizioni. Serve lo studio per distinguere il vero dal vero simile, tema tanto caro a Parmedia, Platone, ecco l'eclettismo filosofico di Cicerone. Il vero non è il vero simile, per poter distinguere il vero dal vero simile, o diritto dal falso, bisogna studiare lo studio come elemento fortificatore, come elemento emancipatore. E lo studio dunque è uno studio che è teorico, sempre lo studio teorico, ma poi diventa anche pratico. In cosa consiste questa prassi poi filosofica? E nell'opera, appunto, importante, nella sua opera sulla Repubblica, nel passo appunto del sogno di Scipione, Cicerone ci dice delle cose molto, molto interessanti. Ci dice che per il bene del singolo e della comunità è necessario che l'individuo non si perda nei desideri solo materiali e che diventi dunque schiavo di passione, di successo, di onore, di gloria, e soprattutto non deve diventare schiavo delle opinioni altrui, anche degli influencer, ok? Ma deve appunto pensare con la propria testa, in modo particolare deve comprendere che la gloria terrena non ha alcun valore, non bisogna appunto rimanere nella mediocrità anche di valori che sono legati appunto a gloria, o potere, alla materialità. Bisogna invece coltivare la virtù dell'anea, bisogna mirare le stelle, suggerimento al futuro Dante, bisogna mirare le stelle non alla dimensione materiale. Chi mira le stelle, studia mirando le stelle, è poi un cittadino, perché per essere cittadini si erano delle virtù e il sapiente non può dedicare solo la sua vita alla letteratura, alla scienza, ad osservare le stelle o allo studio. Una volta che ha studiato deve dedicare la sua vita poi alla politica, all'agire politico. Deve essere la persona sapiente, disposta a servire la città. È bello questo passaggio, come se una persona sapiente, dedita al sapere, debba a un certo punto anche sacrificarsi per il bene collettivo, per la comunità, mettersi al disposizione della comunità. Io ho delle conoscenze, io ho della sapienza, io non posso tenerla solo per me, devo fare un salto e rendermi disponibile proprio a mettermi al servizio della comunità, disponibile per la comunità, a mettermi al servizio della comunità. E dunque il sapiente deve essere un uomo buono e onesto, buono nel comportamento, saggio, e deve essere onesto intellettualmente. Bontà, onestà, intellettuale appartengono al sapiente, il quale dunque deve essere integro intellettualmente, integro nel cuore, essere pronto a servire la comunità. Dunque il politico. Chiudo dicendovi che vi è sempre nel dialogo, leglio o sull'amicizia, un'esaltazione dell'amicizia incredibile. E la migliore amicizia è l'amicizia tra persone virtuose, o meglio, la vera amicizia, perché quando non si è virtuosi l'amicizia diventa opportunismo, diventa utilità, si distanzia qua dunque da Aristotele, per il quale sono forme di amicizia, invece per Cicerone non sono forme di amicizia quelle sull'utilità, quelle su anche il piccolo accabotaggio, sul calcolo, ma l'amicizia è tra persone virtuose. L'amicizia è vera e profonda tra persone sapienti, non la sapienza, non soltanto come conoscenza, ma la sapienza come bontà, come onestà, come voglia appunto di stare insieme a partire dal valore del bene. Allora questa è veramente la stella polare, l'amicizia. Ecco in sintesi i nuclei centrali del pensiero di Cicerone, dall'eclettismo alla centralità dello studio, della conoscenza, l'esaltazione dell'oratoria, la critica della retorica vuota, la missione civilizzatrice, appunto della filosofia, e poi l'esaltazione dello studio, delle virtù civili, civiche, politiche e anche la missione poi del sapiente stesso che deve aprirsi alla politica, fare politica come ha fatto appunto Cicerone, probabilmente il senatore, poi più famoso, uno tra i più famosi della storia appunto di Roma. Perché chi è sapiente, chi è virtuoso, chi è intellettualmente onesto non può rimanere nel suo castello d'avorio, non può rimanere dentro appunto la sua casa, a fare diciamo solo sfoggio di cultura o anche semplicemente a fare full immersion di cultura e di sapienza, ma deve essere appunto pronto a fare politica, a mettersi al servizio dello Stato. Se non si mettono al servizio dello Stato le persone migliori, più virtuose, allora quello studio è veramente solo fine a se stesso, non ha una fuoriuscita civilizzatrice, politica di crescita della comunità nella quale si vive.